Approvati assestamento ed esercizio provvisorio L'Assemblea legislativa ha approvato l'esercizio provvisorio del bilancio sino al 31 gennaio 2013 e nell'ambito della legge di assestamento al bilancio 2012 ha deciso la soppressione dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari mantenendola però in vita sino al 30 giugno 2013. La manovra, approvata a maggioranza dal Consiglio regionale, proroga sino al 31 dicembre 2013 il piano casa e azzera l'avanzo che era previsto in 400 milioni di euro. In totale il rientro è di 885 milioni tra 2012, 2013 e 2014, causa anche la riduzione delle entrate statali e regionali. Salvaguardare i diritti umani in Laos L'Associazione Radicale Adelaide Aglietta e il Movimento Lao per i diritti umani hanno promosso un momento di riflessione sulla drammatica situazione in cui vive il Laos da 37 anni piegato da una durissima dittatura. Il caso del Laos, ancora silenzio sui diritti umani violati, è stato il titolo del convegno che si è svolto a Palazzo Lascaris organizzato in collaborazione con l'Associazione per il Tibet e i diritti umani del Consiglio regionale del Piemonte. Presepi in biblioteca Alla biblioteca della regione di Via Confienza a Torino la mostra i personaggi del presepe allestita con la collaborazione del collezionista Don Alberto Chiodò e visitabile fino al 18 gennaio. La rassegna propone una serie di presepi provenienti da tutto il mondo. Le spedizioni scientifiche ai tempi dei Savoia Una sorta di Erasmus militare antelitteram potrebbe essere definito così il viaggio al centro del racconto dell'utilità e dell'importance del voyage dans son propre pays. Scritto nel Settecento da spirito benedetto Nicolis di Robilan e conservato l'archivio di Stato. La ristampa integrale del volume è stata promossa dal Consiglio regionale curata dall'artistica editrice di Savigliano e è presentata giovedì 6 dicembre a Palazzo Lascaris. La biblioteca offre nuovi servizi. La biblioteca della Regione Piemonte di via Confienza 14 a Torino è aperta al pubblico al mercoledì pomeriggio fino alle 18. Inoltre è possibile prendere in prestito i libri della biblioteca senza recarsi a Torino ma ordinandoli direttamente dalle nove sedi degli uffici in relazione con il pubblico della Giunta e del Consiglio che si trovano in tutte le sedi provinciali.